È una mostra che fa emergere la qualità di un artista, la grande qualità della cultura italiana, è giusto che venga promossa. Tex ci ha fatto sognare, ci farà sognare, ma questa mostra non è soltanto Tex, ma è anche una sottolineatura dell'identità culturale di questo territorio, della sociaria, dell'antica Roma e di quello che è rappresentato l'intera regione Lazio per la crescita dell'Italia. Quindi è una mostra che merita di essere visitata, di un maestro che va apprezzato, applaudito per il lavoro che ha fatto e continua a fare. Grazie.